Ciao a tutti, siamo a Francoporte nello stand Fiat e precisamente di fronte al Panda Corner che vedete dietro le mie spalle. Che cos'è il Panda Corner? Il Panda Corner è uno spazio multimediale all'interno dello stand Fiat che cerca di coinvolgere direttamente le persone sia qui presenti al salone sia quelle che sono a casa, quindi davanti a Facebook, Twitter e social network cerca appunto di invitarli e di coinvolgere nel mondo panda per cercare di ottenere commenti e impressione a caldo sul nuovo prodotto. Tutti i commenti raccolti sul Panda Corner sono visibili sul nostro sito da poche settimane online www.pandatime.com Questo è un modo diverso di raccontare la Panda, infatti chiediamo agli utenti di lasciare i loro commenti, di postare le loro foto e di raccontarci tutte le esperienze che hanno vissuto con la Panda, che come sappiamo è il nostro prodotto più longevo. Nasce negli anni 80 e oggi ci sorprende nuovamente con la nuova versione visibile qui al salone di Francoforte. Quindi cliccate www.fiatpandatime.com, venite a trovarci e lasciate i vostri commenti.